Ariale la stagione dello sci di fondo parte in anticipo grazie alla snow farm la stagione aprirà infatti il 28 ottobre così in occasione del ponte del primo novembre la località Formazzina sarà pronta con il suo anello di fondo di 2,5 chilometri. La snow farm non è null'altro che un accumulo di neve conservata nella tarda primavera che grazie a speciali teli geotermici isola la neve dalla temperatura dell'aria. Questo consente alla stazione ossolana di poter avere a disposizione un innevamento naturale già in autunno e addirittura di partire un mese prima del ponte dell'Immacolata tradizionale data che segna l'apertura della stagione invernale delle località alpine italiane. Il distretto turistico dei laghi dei monti e dell'ossola si conferma così meta ideale degli sport outdoor in ogni stagione non solo in estate non solo in inverno. Di recente ha ospitato infatti eventi di richiamo come i mondiali di Skyrunning a San Domenico Formazza e Bonianco e poi la prossima fine settimana il Vibram Ultra Trail del lago d'Orta. Due eventi che di fatto concludono una stagione positiva che turisticamente parlando ha visto numeri record. Secondo i dati dell'osservatorio turistico regionale la ripresa del comparto in Piemonte ha trovato conferma in un'estate molto positiva con movimenti turistici superiori anche all'estate del 2019 che hanno fatto segnare un più 7%. Inoltre il distretto turistico è presente in questi giorni alla Travel Experience a Rimini dove sarà presentata la ricca offerta del territorio, l'outdoor, la gastronomia e la cultura del benessere.